Non siamo stati per l'ennesima volta capace di concretizzare una partita che comunque avevamo portato fino alla fine, anche se giocando o arrivando a supplementare. Sicuramente abbiamo le nostre responsabilità, quattro palle perse, si alteranti, ovviamente incidono nel risultato finale e dobbiamo guardare prima quello che sono i nostri errori. Ci vorrebbe una gestione e amministrazione della partita dall'inizio alla fine alla stessa maniera, ma questo non toglie nulla ai meriti che ha avuto la prima. Non credo assolutamente che sia stata una troppa sicurezza e una superficialità di pensare che la partita era già vinta. Abbiamo, sull'81-77, magari credevamo di averla già vinta un minuto alla fine, ma la Viola è una buonissima squadra, quest'anno l'ha dimostrato, come abbiamo già detto prima, nella partita sia a Biella che a Casale, di giocarsela fino in fondo. Sono ben allenati, hanno ragazzi che stanno a fare canestro, corrono, dipendono forte, quindi ben venga che ci sono queste partite e che siamo riusciti a vincere.